È ricominciata l'alleanza Consiglio Berlusconi, in Senato ci hanno detto che l'alleanza c'è e va solo rifinita. Mi sembra che l'unico accordo nel nome della poltrona, l'unico patto per la poltrona sia quello fra Renzi e i 5 Stelle. Mi sembra che sia stato evidente che l'unico accordo nel nome del salvare la poltrona sia di quelli che temono gli italiani. Io mi domando chi ha paura degli italiani. Se uno ha paura di tornare dagli italiani, ma ve la vedete voi una manovra economica fatta da Renzi, Boschi, Fico e Toninelli? Cioè lasciamo una manovra economica in un momento che richiede coraggio, velocità, in mano a Renzi, Boschi, Fico e Toninelli? Dai, siamo a serio. Noi siamo pronti a votare domani mattina.